La Commissione Assetto del Territorio con il suo presidente Giovanni Gutagliere, eletto nella lista Stefano e da poco passato nell'NCD, indicato dal clan come Uomo Nostro. La società cooperativa Falanto Servizi di Fabrizio Pomes, ex segretario PSI ed ex consigliere comunale ed assessore, di fatto nelle mani del clan attraverso un'associazione di imprese che ha gestito per anni, senza pagare i canoni, il centro sportivo comunale Magna Grecia. La consigliera comunale Giuseppina Castellaneta, eletta prima in AN e poi passata in Forza Italia, rieletta con Cito a T6 e attualmente nell'NCD, moglie di Michele De Vitis, fratello dei boss Nicola e Salvatore, il quale Michele puntava ad ottenere per conto dei fratelli la gestione di un bar al mercato ortofrutticolo e quella dei Giardini Virgilio. E ancora il sindaco Ezio Stefano, che a capo dell'Aggiunta, informato sui fatti, avrebbe tollerato soprusi e pressioni, sebbene indirette, senza denunciare né prendere provvedimenti. Infine funzionari e tecnici comunali, anch'essi al corrente di quanto accadeva, ma assolutamente immobili. Chi da tempo invece denuncia le anomalie, soprattutto nel settore della gestione del patrimonio pubblico, è il consigliere Dante Capriulo di Noi Democratici. Ascoltiamo. Avevo notato che alcune cose, soprattutto nella gestione del patrimonio pubblico, diciamo, meditavano un approfondimento. Io credo che sia necessaria una verifica sia su come vengono gestiti i beni pubblici, sul sistema degli appalti comunali.